Abbiamo qui Consuelo e Tommaso della Win3. Win3 ha cominciato questa fantastica avventura a Gen Amazon in pieno lockdown. Cosa significa unione di Win3 insieme? A livello nazionale significa avere il primo operatore italiano sia come copertura che numero di clienti. Quindi questo è un grandissimo successo per le due aziende che fondendosi hanno fatto il primo network italiano per la telefonia mobile. Il cliente ha servizio in tutti i campi. Avete nel frattempo cambiato anche il layout del negozio? Avete rinnovato tutto durante questi mesi? Sì, è stato rinnovato il negozio in chiave più moderna, quindi invitiamo i clienti a venirci a trovare per conoscere il nuovo negozio che è il primo nella provincia di Rovigo con la nuova fusione Win3, un nuovo marchio. è stato modernizzato, è tutto più comodo, abbiamo anche il divanetto come potete vedere con i nostri clienti, quindi c'è un'atmosfera più calda, ma comunque sempre in sicurezza per mantenere le distanze abbiamo diverse sensazioni con cui seguire i nostri clienti. Win3 insieme significano più offerte per gli operatori e gli clienti? Cosa si devono aspettare entrando in questo negozio? Si aspetta il cliente di essere scritto innanzitutto in maniera cordiale e qua dobbiamo mettere le offerte, le offerte le abbiamo anche funzionate, le offerte per ogni tipo di gruppo della propria IVA, a un semplice consumer, a chi vuole la fibra, a chi vuole il telefonino con i tasti, e qui anche il telefonino ultra smartphone, quindi abbiamo offerte per tutti i clienti, quindi potete solo venire a trovare. Possiamo fare un esempio di un'offerta che secondo voi è top in questo momento? Allora, abbiamo delle offerte con tutto illimitato, dove potete avere l'S20 a partire da 9,99 a mese, senza anticipo. Abbiamo offerte per la casa con la fibra illimitata a casa, a partire da 25,98 si possono avere fino a 3 SIM a 9,99, avete sia l'attivazione che il modem incluso. Siete una grande squadra di parecchi operatori e addetti in Win 3, quanti siete? Perché abbiamo vari menotti. Quindi qui ci si aspetta un'attenzione sartoriale sul cliente? Hai detto bene sartoriale, cioè cucire proprio l'offerta in base all'esigenza dei clienti, è il nostro contributo.